Siamo qui con la classe Quinta di Cerete Quinta di Cerete che oggi è passata nei nostri studi, come mai da queste parti? Beh, volevamo vedere uno studio televisivo, volevamo vedere come qui lavorano DJ, giornalisti e quale migliore locazione che arrivare a Clusone ad Antenna 2 E noi siamo felicissimi che siate passati da questa parte, dalle nostre parti a trovarci cari bambini e cara maestra So che avete una giornata intensa oggi, non solo la visita ad Antenna 2 No, abbiamo deciso poi di spostarci in Piazza dell'Orologio dove il nostro amico Mino Scandella ci inviterà a visitare ed osservare l'Orologio Fanzago che è un pezzo molto importante qui a Clusone e nel pomeriggio invece saremo ospiti dalla Franca Pezzoli nella sua galleria e lì visiteremo e guarderemo con occhi davvero stupiti le icone russe che sono in mostra in questo periodo nella sua galleria Allora, adesso siccome siamo in chiusura della gita qui ad Antenna 2 devo chiedervi se vi è piaciuto ovviamente la nostra piccola radiotelevisione Direi proprio di sì, ragazzi sono molto contenti hanno seguito con attenzione tutto quello che tu ci hai raccontato hanno visto come funziona uno studio televisivo e sicuramente in qualcuno nascerà la voglia di diventare magari in un futuro giornalista o anche un DJ di una radio insomma Perché abbiamo fatto fare alcuni provini ai nostri ragazzi magari futuri davvero conduttori di un telegiornale di un programma radiofonico, chi lo sa? Siamo i ragazzi di classe quinta di Cerete e ci siamo venuti qua a visitare Antenna 2 Ciao, sono Gabriele e voglio fare un provino per il telegiornale Pensi di essere umano giornalista? Sì Quali sono le due materie preferite? Storia Poi? Storia e scienze E gli sport cosa fai? Karate Magari potrebbe essere questo il tuo futuro? Sì Ti piacerebbe? Sì Federico Cosa ti è piaciuto della visita? Mi è piaciuto provare queste cose e vedere come cambiava dal monitor allo sfondo E quindi la televisione A te cosa è piaciuto? Tutto Tutta la televisione, tutta la radio, tutto è piaciuto, bello Tornerai a trovarci? Sì Quando? Quando sarai più grande e farai la conduttrice di qualche bel programma? Ok, certo Un bel programma magari di cucina? Magari Magari, magari Grazie a tutti per la visita Grazie a tutti voi Grazie E salutiamo Ciao 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 Ciao